Se sei capace di causarti la depressione, dico questo non perché non mi interessi alla tua malattia o per mancanza di compassione, perché questa è la natura di ciò che ti sta accadendo. Se stai causando la depressione a te stesso, sei in grado di generare una notevole quantità di emozioni e pensieri intensi, ma nella direzione sbagliata. Se non hai emozioni molto forti, pensieri molto intensi su qualcosa, non puoi diventare depresso. È solo che stai generando pensieri ed emozioni che lavorano contro di te, non per te. Quindi sei abbastanza forte da causarti la depressione. Perché? Affinché tu causi una malattia mentale a te stesso, a meno che tu non sia patologicamente malato, ed è solo un piccolo numero di persone. Il resto è tutto autocreato. La maggior parte delle depressioni è autocreata. Pochi sono patologicamente malati e non possono farci niente. Viene semplicemente da dentro, a causa della genetica e di altri fattori. Quasi tutti presenti. Se li formiamo verso un certo tipo di processo pensiero e di emozione e facciamo un po' di pressione su di loro con le situazioni esterne, quasi tutti andranno, perderanno il proprio equilibrio mentale. Diventeranno clinicamente malati. Possono essere spinti alla pazzia, sto dicendo. Perché il confine tra salute mentale e pazzia è molto sottile. La gente continua a spingerlo. Ti arrabbi. Stai spingendo il confine. È un confine sottile. In realtà, quando ti arrabbi, sai che stai spingendo il confine. Ecco perché l'espressione ero arrabbiato matto con qualcuno. Non sei arrabbiato matto con qualcuno. Stai solo diventando matto. Non puoi essere arrabbiato matto con qualcuno. Stai solo spingendo la tua salute, i confini della salute mentale e ti muovi verso la pazzia per un certo tempo e torni indietro. Fai una cosa. Ogni giorno prova questo. Dieci minuti al giorno. Prova un'intensa rabbia verso qualcuno. Come? Vedrai? Nell'arco di tre mesi? Sarai clinicamente lì. Sì. Semplicemente prova, se vuoi. Perché se continui a spingere il confine, dai di matto e torni, dai di matto e torni. Un giorno non sei in grado di tornare. Tutto qui. Un giorno non sei in grado di tornare indietro. Allora sei clinicamente malato. Devi capire, anche se ti sei arrabbiato per un attimo, sei già malato. Forse non ottieni il certificato di diagnosi. Non ti schiaffano addosso un certificato che sei andato. Ma ci stai andando. Non è così? Pensi sia un tuo diritto di fare delle scenate. Pensi sia un tuo diritto di arrabbiarti con la gente. pensi sia un tuo diritto di essere depresso per ottenere attenzione da qualcuno. Continui a giocare così. Un giorno non sarai in grado di tornare indietro. Continui a avvarcare il confine ogni giorno. Un giorno vedrai. Non puoi tornare indietro. Quel giorno hai bisogno di un medico. Fino ad allora tutti avevano bisogno di avere una tregua da te. Ma il giorno in cui non puoi tornare indietro, ce l'hanno perché ora possono prenderti e darti a un medico. Altrimenti impazzisci temporaneamente, ogni giorno, molte volte al giorno. Non possono nemmeno mandarti in un manicomio. Devono sopportarti. Tua famiglia, i tuoi amici, le persone intorno a te. Se almeno ti ammali davvero clinicamente, possiamo internarti. C'è un tempio nel Tamil Nadu, sai, dove ti incatenano e ti tengono lì. Dove non c'è nessun ospedale. Per i disturbi psicologici c'è un ospedale. C'è un tempio che qualcuno ha creato che dovrebbe riportare le persone alla salute mentale. Quindi le famiglie li prendono e li lasciano lì. Vengono incatenati e lasciati nel tempio. Dai loro dei soldi, ti nutriranno e semplicemente stai lì come un animale, legato. Penso che se gli ospedali fossero gestiti così, molta gente non impazzirebbe. Manterrebbe la propria salute mentale. Al momento è troppo di lusso. Se rendi l'ospedale estremamente confortevole, diventerà un incentivo ad ammalarsi. E hai degli incentivi nella tua vita per ammalarti, fin dalla tua infanzia. Avevi la massima attenzione solo quando ti ammalavi. Quando eri felice ti urlavano contro. Quando sei un bambino, la malattia fisica è positiva. Perché avrai l'attenzione di tua madre, tuo padre e tutti intorno a te. E non devi andare a scuola quel giorno. Quindi impari l'arte di ammalarti fisicamente. Ma una volta che ti sposi, imparerai l'arte di diventare mentalmente malato. Perché se vuoi ottenere dell'attenzione, ti vai a sedere in un angolo. Fai il depresso. Le persone ti presteranno attenzione. Quindi continui a giocare a questo gioco. Un giorno non riesci a tornare indietro. Quel giorno sei clinicamente malato. Sfortunatamente, in molti modi, non solo nel modo che ho detto ora, in molti modi diversi, direi che il 70% delle malattie sul pianeta, di tutti i tipi, sono autocreate. Anche se contrai un'infezione. C'è un modo. Se mantieni te stesso in un certo modo fisicamente e mentalmente. I virus e i batteri non funzioneranno nello stesso modo in cui funzionano su qualcun altro. Se imposti te stesso così, non importa cosa succede. Comunque devo andare e fare questo, questo e questo. Non c'è pausa. Negli ultimi 29 anni non sono riuscito a cancellare un solo programma perché ho la febbre alta o il raffreddore o questo o quello. Non importa cosa sta succedendo. Ciò che devi fare, comunque lo devi fare. Non puoi tirarti indietro. O per il tuo impegno o perché hai un capo così. In modo o nell'altro, se succede, allora vedrai. Non ti ammalerai affatto così spesso. Perché se hai la febbre, comunque devi andare. Se è estate vai comunque, giusto? No, molte persone non vanno. Fa un po' caldo fuori, non vanno a lavorare. Un po' di freddo fuori, non vanno a lavorare. Un po' di pioggia, andranno a lavorare. Un fiocco di neve, non andranno a lavorare. È solo il meteo. Quindi per ogni cambiamento del tempo, se hai il conforto di coprirti con una coperta, estraiarti, una volta che crei questo, il tuo corpo imparerà ad ammalarsi il più spesso possibile. Se lo mantieni semplicemente così, che non importa cosa sia, comunque devo andare a fare quello che devo fare. Vedrai, il tuo corpo si riprenderà il più velocemente possibile, anche se contrai il peggior tipo di infezioni. Quindi devi solo stabilire le condizioni necessarie per la salute, gli incentivi necessari per la salute, sia per te stesso che per i tuoi figli, se ne hai. Non stabilire incentivi per la malattia. Il bambino è malato, osservalo da lontano, non andare mai a coccolarlo. Sa che è il momento peggiore della sua vita e sa che deve stare bene presto. E prestagli le migliori attenzioni quando è gioioso. Vedrai che naturalmente impara dall'interno. La sua stessa chimica imparerà che essere gioiosi paga, non paga essere ammalati. Se lo rendi molto chiaro alla tua biologia, alla tua chimica e a tutti quelli che ti circondano, vedrai, le persone non si ammaleranno tanto spesso quanto fanno ora. Quindi imposta questo per te stesso. Vedrai che tornerai in salute. Se puoi orientare la tua mente in questo modo, puoi anche orientarla in quell'altro. Voglio che tu lo capisca. No, no, sono così perché mio padre abusava di me quando avevo sette anni. Se sai tutte quelle sciocchezze, puoi anche dare una svolta a te stesso, non è così. È ora. Devi capire. mentalmente, fisiologicamente, chimicamente, energeticamente. Devi capire chiaramente. Non paga essere malati, infelici, depressi, non paga. Essere gioiosi ed estatici, paga. Se lo rendi chiaro a tutte queste persone dentro, si comporteranno tutte come si deve. Grazie. Grazie a tutti.